Oh, guarda... Senti, capisco che può sembrare... Ehi, un'uscita! Raggiungi il lato nord dell'edificio. Avrai copertura. Fermo! Cavolo, la faccenda si fa seria. Vi avverto, ragazzi. Sono una letale macchina di morte. Un esperimento segreto del governo. Ho fatto da cavia. Ho subito degli abusi. Anche intrusioni anali. E sono diventato un pericoloso telecinetico. Come consiglia l'antica filosofia tibetana? Se niente inizi, niente potrà esserci. Te le togliti queste, adesso. Faccia a terra. O ti fermo il cuore con la forza della mente. Grazie, Cougar. De la parola di esserci. Sì... Grazie a tutti.